cari amici di rete 55 buonasera buona domenica oggi abbiamo festeggiato almeno nel nostro ricco ambrosiano è la divina maternità di Maria è una grande festa ma certo io spero che i miei confratelli vi hanno spiegato ampiamente anche il valore della Madonna proprio come colei che portando in grembo Gesù consegna il figlio all'umanità e Gesù è colui che è vero uomo e vero Dio uomo pienamente anche perché generato verso lo spirito santo ma nel gremio di una donna ma vero Dio perché con noi con la nostra umanità e con la divinità eleva noi stessi verso quello che chiamiamo il cammino della salvezza questa brevissima presentazione tocchiamo l'argomento che abbiamo annunciato venerdì è un argomento interessante sicuramente l'abbiamo già in altre puntate del nostro generale dello spirito toccato questa linea guida che è uscita e che questo padre Francesco Bamonte ha presentato l'esorcista non è un super uomo o un mago ma è una persona normale un sacerdote che necessita anche lui di formazione non dobbiamo confondere l'esorcismo con la spettacolarità di quello che tante volte la produzione filmica ha mostrato l'esorcismo è un servizio che la chiesa da sempre fedele all'insegnamento evangelico ha saputo offrire e diremmo qualificare per aiutare le persone non sempre si è detto che siano tutti cristiani perché vengono a sottoporsi agli esorcismi hanno una necessità particolare di essere liberati dal spirito di marito questo è il sintesi ora è chiaro occorre una preparazione specifica per esercitare questo impegnativo conflitto non tutti i sacerdoti possono esercitare questo che mi nota mi ha chiamato un esorcistato che veniva anche conferito nel cammino di preparazione sacerdotale poi per essere esorcisti ufficiali occorre una formazione e una nomina ufficiale da parte del vescovo dell'ordinario dell'uomo anche in quelle diocesi dove c'è un solo esorcista potrebbe bastare magari quelle piccole si vuole comunque consigliare sempre più di uno per tanti motivi ma per un motivo particolare proprio il confronto la formazione ed essere vissuta come un cammino permanente di crescita prima di tutto della persona dell'esorcista del sacerdote chiamato a un compito in cui deve avere tre qualità chiarissime una deve essere un uomo di fede provato senso che prega che vive intensamente la propria vita interiore è un uomo forte perché la forza viene dall'amore di Cristo in lui dall'ospito che lo guida deve essere un uomo che cammina con la chiesa e quindi ne dispensa quel bene prezioso che è la potenza dello spirito capace di sconfiggere il male perché Gesù ha vinto il male muorendo in croce per noi e soprattutto deve essere un uomo in una formazione permanente anche sotto un profilo di quelle scienze umane atte ad aiutare a capire diremmo a distinguere a discernere tutto quello che fa parte della possessione demoniaca o presunta da quindi è un indispensabile servizio deve avere dei confratelli vicini che lo aiutano perché è un servizio nel quale condividendolo ci sostiene vicenda proprio nel condividere quella che possiamo chiamare una stessa casistica in qualche libro l'ho letto anch'io su queste casistiche anche molto ampie che si possono riscontrare certo una guida ufficiale ci voleva era molto utile proprio perché è una guida che viene fatta da l'associazione internazionale degli esorcisti che ha dato proprio un vademecum per questo per farvi capire che avete le spettacole su questi argomenti non si può improvvisare e non si può neanche spettacolarizzare quello che non è uno spettacolo per niente però che gli esorcismi vengono sempre consigliati in luoghi appartati spesso piccole cappelle luoghi dove con la giusta tranquillità e anche la concentrazione e raccoglimento avvengono delle preghiere particolari possono provocare anche delle reazioni a volte un po' scomposte da parte delle persone che subiscono la possessione demoniaca o comunque per risultatare perché a volte ci sono anche delle linee di interpretazione legate a delle turbe che possono essere di natura psichiatrica e qui si affiancano a volte anche delle tip che supportano sotto questo punto di vista non per spaventarla far capire come dicevamo che al centro è la misericordia di Dio e dispensare la potenza che Gesù ha insegnato a noi che ha trasmesso agli apostoli che ha trasmesso alla chiesa di scacciare anche i demoni e ne parla più volte i Vangeli sono pieni di questi racconti ma anche gli stessi apostoli se leggiamo gli atti degli apostoli sia negli atti di Pietro che di Paolo in particolare ci sono momenti in cui cacciano dei demoni quindi è un indispensabile servizio e uno che quelli che si è impegnato di più anche su questo libretto è il cardinal vicario di Roma attuale angelo di Donatis che ne ha dato un imprimato ne ha autorizzato anche la distribuzione tra l'altro a Roma ci sono stati dei gruppi di esorcisti molto ben preparati uno dei più famosi era padre Gabriele Amor che è un modo anche di conoscere della congregazione dei paurini molto preparato per la vita l'esorcista ha pubblicato anche tanti testi una grande esperienza anche lui stesso poi attingeva da un maestro che nella chiesa è visto come uno dei più grandi esorcisti San Benedetto la famosa croce di San Benedetto è una croce che utilizzata con la scritta è proprio un esorcismo perché il santo era famoso non essendo sacerdote come si dice capace di scacciare i demoni perché era un uomo santo più la santità di vita di una persona è elevata più è in grado anche di vincere questi spiriti maligni e quindi la formazione degli esorcisti che sono uomini di Dio per sconfiggere il mare e allora chi ci ascolta come bisogna vivere nella nostra vita per scongiurare eventuali pericoli di possessione è molto semplice e vi faccio anche io quello che mi diceva qualche volta padre Amor lo ho conosciuto abbastanza bene ecco diceva che la vita di grazia è la vera imprescindibile difesa dagli attacchi ordinari e straordinari quando un credente è motivato ci crede prega vive una vita cristiana cerca di impegnarsi anche per gli altri una persona caritatevole sì è vero ci sono sempre essere tentazioni però è solido la solidità della propria vita spirituale è già un ottimo valore e poi bisogna crescere in due virtù l'umiltà e la carità la persona umile è la persona che sa farsi correggere la persona arrogante è l'opposto ma che non si prende ragione su ecco perché il Natale svilupperebbe un po' questa umiltà l'umile e buon Giuseppe e anche l'umile e buona Maria che sanno dire sì al Signore ecco l'umile è quello che si mette a servizio come nella carità nella disponibilità non dice non mi interessa no mi impegno mi do da fare ci credo ci metto mi impegno mi apro al bene ecco perché il modo per evitare soluzioni sbagliate è quello di non credere che il male sia così potente male è potente ma non è onnipotente onnipotente è solo di Dio quindi essere forti in questo legame con il Signore Natale ci fa capire anche questo che l'amore per Gesù che nasce deve essere un amore vero se io amo una persona mi leggo con questa persona cerco un legame o questo legame cerco di sostenerlo nel tempo perché a Natale telefoniamo al tizio Caio Sempronio magari tanto tempo che non rivediamo perché non vogliamo perdere il rapporto con loro e allora con lui questo è sicuramente valido l'esorcismo liturgico non opera mai il nome proprio perché è un potere tra virgolette è un dono di Dio lo strumento di è il dito della mano di Dio per vincere in mano l'esorcista è un sacerdote a servizio della misericordia di Dio e deve farlo proprio con questo spirito umile e caritativo non esiste spettacolarità mi raccomando eh non pensiamo a quello che i film ci hanno fatto mostrare fanno solo giustamente il cinema lo dice la parola stessa qualcosa che deve fare spettacolo deve fare odies deve attivare l'esorcismo è un'esperienza di fede molto intensa in cui si tocca quasi con mano la presenza divina di Gesù della Madonna degli angeli dei santi ma di San Michele che viene additato come colui che scaccia i demoni come dici con i racconti biblici eh è l'angelo che scaccia Lucifero e quanti hanno sono stati con lui gli angeli ribelli che precipitano dal cielo eh se uno vuole andare a prendere su Isaia 14 in particolare la storia di Lucifero eh o anche Zecchiere 27 con i racconti apocalittici e c'è proprio un clima di serenità di gioia intensa che non hanno niente a che vedere con quanto il cinema e la tv ci mostrano uno si sente liberato dal male scopre una gioia si sente ancora la presenza di Dio dentro di sé quindi deve esserci dentro di noi grande fiducia nella provvedenza ecco perché abbiamo affrontato questo argomento per dire che il Natale è festa di speranza e la vittoria del bene contro qualsiasi male ma il male peggiore è la nostra mancanza di fede ti raccomando eh ottimisti e speranzosi il Signore ci accompagna umiltà carità vita di grazia cioè rimanere profondamente uniti a questo grazie di questo ascolto buona settimana di preparazione a Natale ormai vicinissima buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti